Primo Consiglio Generale del 2024 per i pensionati CIS della Puglia che in un'intensa mattinata hanno messo sul tavolo della discussione numerosi temi partendo dall'attività svolta nel 2023 per poi tracciare le linee guida di quello che sarà il percorso nel corso di questo nuovo anno. Noi intanto oggi abbiamo convocato il nostro Consiglio Generale che poi è l'organismo che decide le sorti dell'organizzazione, della federazione. Dobbiamo fare il punto annuale del progetto di quest'anno. Il 2024 è un anno importante, abbiamo da gestire una legge di bilancio dello Stato che ha delle novità in termini previdenziali, in termini fiscali, in termini anche di aumento di tasse con l'IVA e quindi con i nostri dobbiamo ragionare su come nei territori possiamo rispondere alle domande, alle incertezze, ai bisogni della gente che rappresentiamo. E uno degli argomenti che toccheremo anche oggi sarà quello della sanità e del welfare. Sono i due argomenti importantissimi che ci accorgiamo che non è all'attenzione di molti. La conferenza stampa della Presidente del Consiglio che non dice in tre ore una sola parola sugli aspetti sanitari di questa nazione, né gli fanno manco la domanda. La dice lunga su che cosa ci spetta fare. La sanità è regionale, ci sono 20 sanità diverse. Viene gestita più in modo politico che non in modo sanitario, in modo tecnico. Le liste di attesa sono quelle che sono. Noi stiamo intervenendo in tutti i modi per far capire che c'è gente che non può e non può proprio rivolgersi ai privati a pagamento per risolvere i propri problemi di salute. Chi non può deve avere la possibilità. Ci stanno i fondi del PNRR che dovrebbero entro il 2026 costruire le case della salute, gli ospedali di comunità. I soldi ci sono, devono servire a questo scopo perché questo avvicina il bisogno delle persone alla soluzione dei problemi. Per il momento ci accorgiamo che molto lentamente si va verso una soluzione che deve migliorare l'offerta e noi combatteremo per fare in modo che si acceleri. I lavori del Consiglio Generale si sono qualificati per il ricco e articolato dibattito, oltre che per la partecipazione agli interventi del segretario regionale Filippo Turi, il segretario nazionale dei pensionati CISL Emilio Di Donè e Antonio Castellucci, segretario generale della CISL Puglia. Grande attenzione ai temi relativi alla violenza sulle donne, incidenti sul lavoro, welfare e sanità. Ma cosa ci aspetta in questo nuovo anno? Spero che, almeno nel futuro, i pensionati non vengano più trattati come bancomat ogni volta che la coperta è corta in questo Paese. Bisogna ridare dignità e rispetto e diritto ai pensionati. Io con questo mi aspetto di questo paradigma. E l'altro, in versione di rotta, che mi aspetto che il Governo prenda in mano la situazione insieme alle regioni, è un cambiamento, o almeno iniziare, a riordinare la sanità. Non possiamo più andare avanti con queste liste d'attesa infinite e non possiamo andare avanti che quando uno si presenta a un ospedale, a un'arse, sembra che vada a chiedere la carità. No, lui va a chiedere un diritto costituzionale ed è giusto che lo Stato ne risponda. Quindi, anche su questo, noi ci aspettiamo un'inversione di tendenza che Stato e Regioni rimettino a posto la sanità. Non è solo una questione di soldi. Buttare soldi continuamente non serve. Qui si tratta di riordinare la sanità, perché ci sono più persone anziane e meno nascite. Quindi bisogna invertire completamente quello che c'è stato negli anni precedenti, più territorio, più prevenzione, più riabilitazione e più invecchiamento attivo. E questo salto di qualità, questo Stato, il nostro Servizio Sanitario Nazionale lo deve fare. L'anno appena concluso si ha visto la Federazione dei Pensionati con un aumento di oltre 600 pensionati iscritti e l'impegno su campagne contro la violenza sulle donne e per l'abbattimento delle liste d'attesa. Ma come spiega Antonio Castellucci, c'è ancora molto da fare. Di fatto i problemi sono molti, sia per quanto riguarda la sanità, ma anche il welfare più in generale. In modo particolare per gli anziani le fasce fragili. Noi come CISL oggi facciamo un po' il punto insieme alla Federazione dei Pensionati, perché sicuramente è la categoria più esposta su questi problemi. Ma intanto bisogna dire che l'organizzazione, i colleghi dei pensionati hanno fatto un bel lavoro in termini anche di lavoro su ogni territorio, ma soprattutto alzando il livello di discussione per quanto riguarda le difficoltà nella sanità e nel welfare. E' ovvio che quello che manca oggi è ancora quello che da tempo noi riportiamo anche sulla stampa, ma l'abbiamo anche riportato in regione, un confronto serrato e soprattutto strutturato su queste problematiche. Ricordo che su sanità e welfare abbiamo un protocollo del 2 maggio, che purtroppo è completamente fermo, e quindi noi auspichiamo che nelle prossime settimane si possa riprendere, ma soprattutto affrontare le vere questioni che attanagliano il territorio regionale. Sì, le liste d'attesa, ma ci sono tantissime altre questioni, l'emergenza-urgenza, la carenza di personale. Però serve un percorso comune e farli insieme perché sicuramente si possono trovare anche soluzioni. Grazie.